In Italia si parla sempre dei soldi e non di come sono io, come mi trovo come persona qua a Giuvento. Mi è successo lo stesso a Palermo quando avevano pagato quella cifra e poi ho fatto vedere che non mi pensavo e cercherò di fare lo stesso anche qua. Ciao Paolo, sono la Gallo di Amazon, volevo sapere come mai hai voluto fortemente la Juve perché fin dall'inizio hai uscito qui e se la squadra bianconera può essere anche la tua porta per raggiungere la nazionale e se per caso temi di non poter giocare con Messi o un'altra per l'agricona per quei argentini dove si è perduto la base. Da quando io stavo giocando con il Palermo cercavo sempre di pensare a giocare e il mio gruppo di lavoro pensavo a quello che era il futuro. Il giorno che mi hanno detto che la Giuventus mi voleva e io ho fatto la mia decisione e l'ho detto subito che voleva venire qua a portare tanti motivi. Uno, dico lui che mi piace sempre vincere e tutte le cose che faccio e penso che questa sera la squadra è perfetta per cominciare a vincere la mia carriera. La giocatura nazionale credo che tutti abbiamo il sogno di arrivare. Penso che Messi continuerà a giocare la nazionale perché è il giocatore più forte del mondo e deve essere per forza lì. Ciao Bolo, Simone Cerdano, Premium Sport. Ti chiedo, ti immagini una serie A più difficile dello scorso anno per la Juve? Tu non c'eri ma qui praticamente si è dominato il campionato. Credi che sia un campionato più equilibrato e credi che l'impresa sfiorata dello scorso anno in Champions sia ripetibile? Cioè che la Juve possa andare ancora così lontano? Sì, penso che la Juve l'anno scorso ha fatto un anno incredibile. Peccato che non ha potuto vincere la Champions contro una grande squadra, però penso che la cosa positiva è che la Juventus possa fare ancora meglio questo anno vincendo la Champions. Io penso che il campionato sarà difficile perché tutti vogliono vincere contro la Juventus e sarà facile giocare in qualsiasi stadio. Però penso che c'è una rossa molto forte che possiamo vincere e possiamo vincere il privato che aveva arrivato l'anno scorso. Scusa la curiosità, se hai un soprannome calcistico a cui si è legato particolarmente? Sì, sì. E quando ho cominciato a giocare in Argentino un giornalista, un giornalista de la me ha detto la joya che il gioiello. Quindi il primo sopra il novecato? Quello del primo che me hanno detto. E qua quando sono arrivato a Palermo, mi chiedono. Grazie a tutti.